Tutto pronto, partiti i cavalli. Nell'ultima corsa di quest'oggi, seconda tris di giornata. Bagarra in partenza, Mewat prende subito l'iniziativa, accompagnato all'interno dall'altro con la giuba bianca e verde, vale a dire racconterò di te. In terza si sistema Magic Timing a precedere via Condotti, poi zona d'ombra che ha alle sue spalle Don't Stop My Run, Simply Beautiful, poi troviamo anche Alias De Griff, Mesocco, in mezzo al gruppo c'è anche Corvina, riconoscibile dal mantello grigio, poi Because The Night anticipata da Infinity Focus, alle cui spalle c'è anche l'altra giuba scura, che è quella di giuba rossa di Cupido Dormiente, che si è sistemato in ultima posizione. Così si va a affrontare la curva con Mewat, che non conosce sosta per non cedere al compromesso tattico che lo ha condizionato molto nell'ultima occasione. Racconterò di te in seconda, Magic Timing che si è sistemato in terza, poi quarta corsia per via Condotti, alle loro spalle ci sono Simply Beautiful, Mesocco che ha guadagnato tanto terreno galoppando all'interno, e ancora Don't Stop My Run, Infinity Focus che va di fuori con il gruppo chiuso da Cupido Dormiente. Quando siamo al 500 dal palo, Mewat è saldamente in evidenza, sta allungando con una certa decisione. Gli altri che si gettano nella rincorsa, in particolare da questa immagine sembra che Cupido Dormiente dall'esterno provi a fare lo sforzo. Zona Dombra che rimane in quota, Infinity Focus che prova a fare lo sforzo a 200 dal palo, Mewat sta vedendo assottigliarsi il suo vantaggio, ma è comunque ancora davanti. Zona Dombra che recupera metro su metro e passa in vantaggio. Cupido Dormiente che ci prova, anche Beac of the Night con Zona Dombra che fa la sorpresa nel giorno delle sorprese, e vince a quota Shock, 31 per Zona Dombra che conquista in questo modo la vittoria numero 3 in carriera. Nessuno se lo aspettava, ma alla fine ha vinto Zona Dombra con un puntuale Riccardo Iacopini in sella, Ciro Luongo, i colori sono quelli della scuderia Rosso Blu, li vediamo al finale per capire anche meglio le piazze, se ne abbiamo la possibilità. Eccolo qua, con Beac of the Night che accompagnata da Cupido Dormiente riesce comunque a catturare il secondo posto, 13 al primo, 10 al secondo, 7 al terzo, 13, 10, 7, è l'ultimo ordine d'arrivo che vi dovevamo, con Beac of the Night che aveva ugualmente quota in doppia cifra, Cupido Dormiente che ne aveva un'altra in doppia cifra, arrivo a quote doppie, a dir poco, veramente molto complicata, ma tutto il merito di questa affermazione va al peso basso e alla forma in crescita evidentemente di Zona Dombra, è tutto da Capannelle per questa giornata.